e ragazzi ciao sono luigi e qui oggi un'altra recensione riguardante un profumo di gas un profumo non tanto facile da trovare qui da noi in italia forse in qualche catena di negozi ma più che altro solitamente noi troviamo in giro il gas sedactive normale questo invece gas sedactive home bleu che è stato già realizzato da vecchi anni intorno al 2012 intorno a quel periodo lì e niente è un profumo che diciamo è tutto blu di colore però non è blu nell'odore nel senso che oggi noi abbiamo una marea di profumi con associato il colore blu no blu de chanel sauvage che ha quella tinta di blu da quello diciamo siamo rimandati diciamo come tipo di odore a quelle cose lì oppure anche dilan blu per esempio e tanti altri che possono stati fatti in seguito diciamo un po anche aventus a questa proprietà ma questo profumo invece non ha nessuno di queste aromaticità bensì questo profumo ha un odore un po secco un odore che se vogliamo dire marino non è proprio marino come lo sappiamo noi quel fresco ma bensì un odore salato un odore infatti una delle note che secondo me spicca meglio è la nota di caviare che sì c'è in questo profumo è una nota salata una nota anche un po che ricorda quasi le alghe non so mi dà quell'idea lì è il cercare da momo che da una minima dolcezza a questo profumo che non è veramente dolce però sentire un po di più appena spruzzato e niente questo profumo per me è molto elegante non è così giovanile come viene sappiamo che gas solitamente è una linea prodotta per un pubblico abbastanza giovanile per ragazzi fino ai 25 anni dai queste cose così ma questo qui mi dà un'impressione un po più di datato ma datato di maturo più che altro e di e come tutti che esso una longevità non esagerata però un profumo piacevole un profumo diventemente dolce diventemente speziato marino salato ma non eccessivamente in nessuno di questi campi un profumo come dicevo abbastanza elegante abbastanza piacevole e che si mantiene diciamo abbastanza in linea con il precedente set active home che anche quello però quello è più dolce quello è un po più floreale quello aveva è un altro tipo di gentleman ok questo è un gentleman che ti appresta a portarti verso una locazione marittima invece quello era un gentleman che faceva con te un picnic nel prato diciamo ecco o che ti portava un mazzo di fiori quel differente gentleman certo questo non ti porterà una scatola di caviale questo qui blu però è un buon rifacimento innovazione un passo avanti di questa linea per poter proseguire la loro idea ok da set active a set active home blue e poi in seguito ci sarà anche set active home noir che vi farò una recensione anche se quello del meno per me il meno entusiasmante anche il meno indicato con nome che non non mi dà nessuna sensazione di nero comunque sia se tutti seduzione particolare comunque poi ne parleremo grazie a presto ciao